Vedete che avete una maniera di quanto potete stare con questa parte del cacchiere. Qua iniziate 50 per braccio, attenzione, presenta. Oh! Oh! Qua qua sotto, locale. Oh! C'è tante tecniche, se faccio vedere sicuro non alleniamo la tecnica. Ora sicuro il movimento. Però giusto per far capire che non lo stiamo facendo. Eh? Fisco. Ah! Qua qua sotto, proiettare o aspettare ad un modo. Però ogni volta che ho fisico, almeno la mia... Ehm... La mia... Ehm... Andiamo a dire per insegnare una volta... Il segno... Da colpire. Perché questo è il cacchiere. Ehm... 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 Quindi... Non è solo il cacchiere. Ehm... 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 C'è tantissime. Ci sono tanti. Posso fare tecniche di leva articolare... O dirette. Ehm... Ehm... O dirette. O... 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 O spinta. O spinta. Ehm... O... 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 O forso. Ah... O se riesce. Ehm... qui, qui, un dito, un dito, tutte le dita, due, tre, due, due, è tutto bene adesso sono 50 volte nel braccio, almeno sentite il perché di questo lavoro